So l'apprensione che i genitori hanno, le mamme, ognuno di noi è il genitore, i bambini che vanno a scuola e quindi si pone delle domande e molto spesso ci facciamo prendere anche un po' dalla tensione. A Bagheria la scuola apre, già gli istituti superiori hanno cominciato, seppur in forma ridotta, iniziano le scuole medie, le scuole alimentari, qualcuno già aveva iniziato prima, qualcuno mi ha chiesto perché in altri paesi le scuole sono state chiuse per 5 giorni, dal 23 al 30 o qualcosa di più, e da noi no. Io penso che la scuola sia oggi il luogo più sicuro, i docenti, i dirigenti, il personale ATA sta facendo sforzi in mani per rendere pulito, sanificato l'ambiente scolastico, e il distanziamento. E quindi a scuola noi ci dobbiamo andare, ovviamente monitorando e controllando il tutto. Chiederò ai sindaci degli altri comuni un incontro per fare in tal caso una proposta tutti insieme al prefetto. Ma la scuola è un luogo sicuro, semmai, così come ha detto qualche preside di un istituto superiore, dobbiamo controllare i nostri ragazzi fuori dalla scuola. Grazie. 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 Grazie.